Una zona al centro di recente petizione popolare, quella del quartiere San Giuseppe, con tanto di comitato per chiedere maggiore controllo e sicurezza. E' proprio ieri sera blitz di quattro equipaggi, composti da ufficiali agenti della sezione NOS, pattuglie antidegrado, sotto la direzione del comandante Massimo Parolin, nella tanto discussa via Allende, a seguito dei monitoraggi effettuati nei giorni precedenti, attraverso sistema di videosorveglianza e la testimonianza dei residenti, circa la presenza, soprattutto in orario serale, di gruppi di extracomunitari sospetti che si intrattengono lungo il vialetto pedonale, senza rispettare, fra le altre cose, i protocolli del vigente DPCM. Identificate complessivamente 11 persone per lo più stranieri, sanzionato un 24enne tunisino per il consumo di bevande alcoliche e l'espletamento sulla pubblica via dei propri bisogni fisiologici. Altri due tunisini di 39 e 23 anni stavano consumando bevande alcoliche e non utilizzavano correttamente il dispositivo di protezione individuale, mentre erano intenti a conversare fra loro. Inoltre ritrovati 86 grammi di Ascis e un grammo e 65 di marijuana addosso al primo e un grammo e 66 di Ascis per il secondo. Entrambi foto segnalati, mentre il 23enne è risultato irregolare e quindi indagato per il reato di immigrazione clandestina. Un plauso è arrivato da parte del sindaco Francesco Rucco, che ha dichiarato la volontà di continuare nell'azione di contrasto in tutte quelle aree a rischio degrado.